spettacolo ci facciamo questa bella alba ragazzi le canne sono quasi pronte la prima in fondo è con il muridu e già in acqua dall'altro lato ci sono altri pescatori e noi ci proviamo dai muridu bigattino vediamo un po' se arriva qualcosa stamattina spot sant'alessio poi mi dite che sono sempre nello stesso punto ci vediamo dopo dai a 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 e da una mezz'ora tre quarti d'ora che continuano ad avere le canne ad avere toccate ad avere quelle scama rosicchiata vediamo un po' bo 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 andiamo a controllare stamattina è venuto Giuseppe a trovarmi ora guardate chi c'è signorino mi ha trovato non si sa come non si sa come hai visto finalmente sull'eurocasting ragazzi però guardate come mangiano male ah è da stamattina guardate qua guardate dove si è allamato sto pesce neanche in bocca guardate qua si è fregato proprio la mangiano malissimo ma vai però sono entrate sono entrate mormora la grande avanti dai ragazzi ancora Giuseppe è venuto di nuovo a trovare Mimino ti saluta ti salutiamo con queste due mormorotte speriamo di prenderne più grossi dai però sono entrate abbiamo avuto un po' di mangiato ora ti tocca chiudere perché sei fatto carissimo ragazzi alla prossima vai ciao 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 ciao